Signore e signori, nel video di oggi acquisterò una mystery box dal valore di 2000€ E se vi chiedete perché lo sto facendo, è perché non l'ho mai fatto E quindi voglio vedere se queste mystery box funzionano davvero Ho cercato a lungo online dei siti affidabili, ma soprattutto che il contenuto delle mystery box fosse realmente di valore E dopo una lunga ricerca, mi sono imbattuto in questo sito che sembra essere non solo innovativo, ma anche molto divertente E da caccia al tesoro, non resta che andare a caccia di mystery box Iniziamo! La prima cosa da fare è ricaricare il nostro conto In questo caso abbiamo delle gemme e ogni gemma è l'equivalente di un euro Credo, vediamo 25 gemme sono 25... dollari Ma se mettiamo gli euro, ah sono di più 25 gemme sono 29 euro Quindi se io volessi spendere 1500 gemme sono 1751,65 euro Io direi di comprare Deposita Dichiaro di avere la mia... sì, ho 18 anni Eh, ho 18 anni Si può comprare con le solite carte, ma anche con le criptovalute Che io ne ho un sacco, raga, di cripto Io sono uno di quelli che ha comprati bitcoin tipo 12 anni fa Non è vero Non è vero Comunque acquistiamo Selezioniamo il pagamento Ok, va bene Ed eccoli qui signori 1500 Profilo Ok, c'è la mia immagine del profilo Il mio nome e i soldi 1500 gemme 1800 euro Poi bisognerà arrivare a 2000 Trova oggetti reali dentro mystery box virtuali Come funziona? Io apro delle mystery box E poi posso vincere virtualmente dei prodotti che poi ti speriscono a casa Questo è il riassunto Cioè, guardate quante mystery box ci sono Sono allucinanti C'è l'Apple Selection Apple Samsung Summer Sale Solo telefoni Random Millionaire Cosa c'è random Ho i Rolex Alla sfere basta Se T'ho Tinti questa freschezza al mio polso Non ho l'orologio Non ho un Rolex Avrò premura di vincerlo Cosa si può vincere qua? Una Smart Poi c'è Rolex Qui puoi vincere Gucci Una Honda I vari Macbook Apple Watch E tanti gadget incredibili Andiamo a vedere altre scatole Mamma mia Mamma mia Sneaker Ci sono le sneakers raga Supreme Supreme Di essere super fake Attenzione Perché puoi trovare cose originali Ma anche cose tarocche Gioielli Oro C'è l'oro Ci sono orologi Allora Un sacco di cose davvero incredibili Non resta Che provare ad aprire una scatola Ma prima Andiamo alle battaglie Che cosa sono le battaglie? Io posso sfidare Uno VS1 O anche più giocatori Chi unboxa Prodotti con maggior valore E totalizza un carrello Più costoso Dell'altro Vince Ok Quindi se io unboxo Più valore dell'altro Vinco io E l'altro perde Quindi in sostanza È una sfida 1 VS1 A chi ha più culo Tutto qua Se hai più fortuna Nell'unboxare Proviamo Proviamo a fare una sfida Crea una clash In questo video Vedrete come si spendono 2000 euro Inbox virtuali Ma poi mi arrivano a casa E infatti Se raggiungiamo 5000 like Nel prossimo video Farò l'unboxing C'è Allora voglio mettere L'Apple selection Che costa 50 Gemme Rolex VS Casio Quindi io sto per sfidare Una persona Con queste box Un'altra Apple E go big Or go Che non so che cosa si vinca Crea clash per 117 Diamanti Ok raga ho creato la clash Sta per iniziare Ah no Devo aspettare che si unisca Un partecipante Se no puoi giocare Che contro un bot Però io voglio Voglio sfidare uno vero Uno real Attenzione User 518 Si unboxa il primo Dai H Forza Forza Credo in te Ha vinto un iphone Lui ha vinto l'iphone Ha vinto un iphone 1700 Ho già perso Ho già perso Raga Ho già perso Lui ha avuto il culo Dei cuce Ha unboxato un iphone Ma che iphone è Non ci credo raga Questo qui ha vinto un iphone Alla primo colpo Non è vero Raga questo qui ha sculato di brutto Ho beccato il tipo che ha sculato Cioè in quanti vincono l'iphone Al primo Cioè in un giorno Ne ho beccato uno che ha vinto 2000 euro di iphone Non è vero Stavamo che ci siete voi che guardate Perché questa cosa raga è real Ok allora lui dovrebbe averla vinta Nella Nella prima Nella prima box Andiamo a verificare immediatamente In questa box Che abbiamo aperto insieme Lui ha trovato un iphone Che è questo Raga ha vinto un iphone 14 pro max Non ci credo Ma è vero Potevo vincerlo io La vita a lui Che culo È una roba fuori di testa Tra l'altro è real Perché io gli ho visti i video Ho visto i video di altri youtuber e streamer Che l'hanno fatto Per vincere qualcosa Hanno sfidato altre persone Ma non vince mai Nessuno così tanto In una botta Raga vi prego Datevi almeno 10.000 like Per questa delusione Me lo merito Ricompense Andiamo a vedere le mie ricompense Che ho totalizzato Con la mia prima disfatta Esperienza totale 11.000 A livello utente 20 Ah posso reclamare delle box gratis Perché sono salito di livello Apri adesso Cos'è Attenzione 0,01 gemlet E vai Digger Qui vedo che ci sono dei kindle Una polaroid Credo sia abbonamento Netflix Reclama box Ora Forza 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 Per la community Delle aggregate Kit Netflix Nooo 0,05 gemlet Non un inizio brillantissimo Va bene Procediamo con il prossimo Con la prossima Mystery box E siccome Abbiamo Una vasta gamma Di prodotti E siccome L'iphone Adesso Sono qui Ho l'iphone qui Raga Non mi scende Devo assolutamente Far qualcosa Quindi il premio massimo È Apple pro display XDR Apri Forza raga Forza community Lasciate like Iscrivetevi al canale iPhone Tablet Raga ho vinto un apple watch Raga ho vinto un apple watch Che bro Ma che cacchio Sto dicendo Ma raga Ma sto scurando Come L'impossibile Vedi i miei prodotti Una penna C'ho anche una penna Oltre che l'apple watch Ma che culo Ho vinto un apple watch Serie 8 Tipo Vediamo la penna Oh raga È così Cioè se io adesso Faccio ordina Lo ricevo Completa la verifica E qui devo mettere Carta di credit Su selfie Ma raga ma Ma che cacchio Ho vinto un apple watch Così Ma stiamo scherzando Vabbè Visto che siamo ancora in estate Summer Sale Che cosa ci propone La macchia Se raga Se vinco la macchina Se vinco la macchina Spacco tutto Vabbè Apri Se mi esce quel gonfiabile Lo buco da dare Da remoto Attenzione Occhiali Macchina A palla Ero di fianco La macchina Raga Io la posso Ah ricevi 6 gemme Per rigiocare Cioè da rigiocare Quindi io praticamente Ho perso 3 gemme Perché puoi rivendere Questa roba è Fica raga Allora siccome Prima ho perso La battaglia Io adesso la rifaccio Avete capito Io adesso la rifaccio Io non mi arrendo Non mi arrendo Io so Vai a chi Io stoi a chi Crea clash Allora adesso voglio aprire Una Sneakers Facciamo aggiungi box Sneakers Supreme O pc gamers Ci sono Ci sono raga Attenzione perché si parte Contro chi sto per giocare Vediamo Non gioco contro un bot Devo vincere contro qualcuno Io devo vincere sto giro Non posso regalare iphone a caso 5 milioni e 800 euro Attenzione User 156 Non è 551 come prima Credo Ok Si parte Forza Forza Dai Ma che Fica Ma cosa ho vinto Io dei laccetti Lui ha vinto 126 S Quando è che recupero Ma quando recupero Raga io non ho Non ho parole Ma che scarpe ha vinto 892 gemme Ma costano 1000 euro Ste scarpe 1000 euro Ma ho fatto vincere un iphone E delle scarpe da 1000 euro 3000 euro Ho fatto vincere Ma raga Giocate contro di me qua Posso far vincere il botto di soldi La rifaccio La rifaccio E' una sfida contro me stesso Dai vinci una smart adesso Ti do una capocciata se vinci Ok si parte Si parte Gira la ruota Yee yee Sto vincendo Sto vincendo di un Cosa ho vinto Una saponetta Sto vincendo di un Di una gemma Ok sono abbastanza sopra Sono sopra di 6 gemme Dai dammi qualcosa di concreto 1530 no mi ho superato alla fine Ho perso di nuovo 953 no raga Devo andare a fare qualche scatola Devo andare a fare qualche scatola E cercare di improvvisare qualcosa Comunque raga vi lascio il link in descrizione Se volete provare Giocate contro di me Scrivetemi proprio nei commenti Ah che giochiamo contro Così voi cliccate il link in descrizione Mi iscrivete Facciamo 1 vs 1 Vi faccio vincere un iphone O vi faccio vincere Quello che Le scarpe da 1000 euro E poi dividiamo Ok È incredibile sta cosa No no Does not make sense Raga voglio vincere un Rolex Apri per 39,90 Rolex 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 172 costa questo Stiamo risalendo Con fatica Stiamo risalendo Stiamo risalendo Stiamo qui con la testa Perché voglio Oh raga Ma ho trovato il Casio Quello che costa di più mi sa È il Casio Questo qui I lacci colorati Ricevi E ricevi Grazie Quindi ho Ho un Apple Watch Che sta per essere spedito Una penna Che sta per essere spedita Ma gli oggetti Nel mio carrello Sono un Casio Che costa 270 euro 260 euro 250 Ma non mi fermo Le ho perse tutte le battaglie Facciamo una battaglia Facciamo una battaglia Una bella clash Me la sento Che ce la posso fare Una vittoria Voglio portarmi a casa Tutto il pacchetto Raga Potrebbe essere La mia prima Vittoria Attenzione Sono Sono in vantaggio Di molto Più del triplo Sono in vantaggio Una pena a testa C'era che ho un carrello Di 35 95 Conto 13 Non pescare Niente di gigante Sono ancora in vantaggio Sono ancora in netto vantaggio Sono ancora in vantaggio Attenzione Dai dammi un prodotto figo Non posso vincere Un'unica volta che Ho vinto La mia prima vittoria La mia prima vittoria Sembra di aver vinto Nei pokemon Quando vince la liga Robe varie Cioè quindi se adesso Io vado Nei miei oggetti Ah c'ho tutte ste robe Laptop or nothing Dai In palio ci sono dei macbook E due cagatine Non possono uscire Quelle cagate Attenzione 5 Mi ho dato i ticket Ultima mystery box Della apple selection È un Apple watch Della nike Raga Tre apple watch Sono il re degli apple watch In questo cavolo di sito Raga ho vinto Tre apple watch Quindi secondo me Ho addirittura Superato Quello che ho investito Quasi 1800 euro Due apple watch Da 800 euro 700 800 euro Più un altro Da 400 euro Per un totale Di 2000 euro Molto bene Molto bene Sono molto contento E ancora ho delle gemme Per cui Vi lascio nel link In descrizione Questo sito Perché è davvero fichissimo E a 10.000 like Farò l'unboxing E a 10.000 like 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 E a 10.000 like